Ragazzi, facciamo una piccola gita. Venite con me. Grazie, mamma. Divertitevi, ragazzi. Io resto qui ad ascoltare le mie canzoncine. Ehi, dove stiamo andando? Dai fuoriclasse. Per gindirindindina. Wow! Bella rete. È fantastico, Mike. E non ci fermeremo qui. È una pazzia! Ci faremo arrestare! Guardateli! Entrano nel mondo degli umani e non hanno neanche paura! Osservate bene, ragazzi. Vedete che cos'hanno in comune? No, veramente no. Esatto! Non esiste un solo tipo di spaventatore. I migliori sfruttano le loro caratteristiche a proprio vantaggio. Wow! Terry, guarda. Ehi, guardate quel tipo anziano! Che punteggi da capogiro! Don, quel tipo anziano è Earl il terrore Thompson. Cosa? Dove? È veramente lui? Ha detenuto il record di spaventi per tre anni! Oh, la terza porta dal fondo! Carla, artigli mortali Benitez! Guardate! Bob Gunderson, l'urlante! Ho ancora la sua prima figurina. Anch'io ce l'ho. Non è più veloce come una volta, ma la sua tecnica è impeccabile. Anche tu collezionavi le figurine, eh? Sì, ne avevo 450. Notevole! Io ne ho 6.000 ancora nuove di zecca, ma anche 450 non è male. Ehi, guardatemi! Sono Earl il terrore Thompson! Wow! Vai così, souffle! È davvero niente male! Sono stato veramente pessimo. Anch'io, Sullivan. Ma non è troppo tardi. Potremmo essere una squadra super. Dobbiamo solo cominciare a lavorare insieme. Ehi! Che cosa ci fate lassù? Non posso tornare in prigione! Ehi! Svelti! Abbiamo le cancogna! Lassù! Svelti! Svelti! Grazie, fratello! Figurati! Sto bene, davvero! È soltanto un piccolo infarto! Voglio salire su anch'io! Ecco! Mamma! Accendi il motore! Come? Accendi il motore! Cucina a vapore! Il motore! Accendi il motore! Ah! Ok! Presto, 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 presto! Mamma! Va! Cinture! Ok, va! Qualcuno vuole una gomma? Vai e basta! Bebbi! Viva! Evviva! Intrupoliamoci da qualche altra parte!